Con la chiusura delle scuole si dà là al lungoponte pasquale un periodo di grandi spostamenti con un aumento dei turisti a Padova. Il prefetto ha quindi presieduto il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica per dettare le linee guida. Sarà una Pasqua blindata nel piano concordato con le forze dell'ordine e i rappresentanti dell'amministrazione comunale. Mirate attività di controllo sono state previste per i luoghi in oggetto di maggiore aggregazione di persone, soprattutto in occasione delle festività come i centri commerciali, gli esercizi pubblici, le strutture ricettive e i centri storici cittadini, oltre, atteso il considerevole numero di persone in viaggio, stazioni ferroviarie e trasporti pubblici. Più in generale è stata incrementata anche attraverso il monitoraggio del web, l'attività di prevenzione contrasto alla criminalità diffusa suscettibile di incremento in considerazione della maggiore circolazione di persone.